Due situazioni di classifica simili, voglia di dare continuità per i Verona, voglia di riscatto per la Lazio. Amici di Sport Italia un saluto da Riccardo Morelli, benvenuti al Synergy Stadium. Questa è la Sverona contro Lazio, Ponda poi prova a prendere al ciare con il destro. Pucato magro, l'Ella sei avanti dopo nove minuti. Una sblocca la squadra di San Marco 1-0. Ma tutto corto all'indietro, il cross di Pavanati, su secondo palo! Corradi, raddoppia per l'Ellas, schema perfetto per la corsa di Milani. Occhio perché scivola, un difensore dell'Ellas e la riapre, così la Lazio! Su un errore difensivo dell'Ellas Verona. Alessandro Milani, primo gol in campionato per il terzino sinistro bianco celeste. Ale, occhio a Coulibaly, sul secondo palo Milani, contatto in area, calcio di rigore! Calcio di rigore per la Lazio! Tutta la concentrazione del 19 che va con il destro! E fa due a due! Per i bianco celesti che rimettono le cose a posto! Fischietto in bocca! E l'Ellas Verona e Lazio si contendono il piatto, un punto a testa che non sposta le cose in classifica. Doppio vantaggio firmato Dentale Corradi. La Lazio prima accorcia con Milani e poi la pareggia con Sulemani. Partita molto divertente, finisce due a due a Verona.